Amici di FanoTV, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dallo stadio comunale di Scoppito, provincia dell'Aquila, dove proprio in questo istante fanno i loro ingressi in campo le squadre di Amiternina Scoppito e Alma Juventus Fano. Alma in maglia granata, calzoncini e calzettoni del medesimo colore, Amiternina in maglia bianca con inserti rossi, traversone interessante, fatica di testa allontana, la palla resta lì, c'è il tiro e c'è il gol dell'Amiternina, c'è il gol, incredibile. Il cross intanto interessantissimo, la palla rimane lì, c'è il tiro alla distanza di Di Paolo, Borrelli ora intanto perde il pallone, c'è Lorusso che mette nel mezzo, Lorusso, Sartori anticipato, poi c'è Clemente al tiro e il Fano si fa vivo dalle parti di Di Fabio, il primo tiro in porta, lo registriamo al minuto 40 nel corso del primo tempo. Unardini per Borrelli al limite, Borrelli, Borrelli molto bene, Borrelli fa tutto da solo, Borrelli prova il tiro, il diagonale, bravo, Di Fabio che si accartoccia. Borrelli quindi prova a nascare Sartori, che buona Sartori, Sartori è solo, Sartori, Sartori per il Fano, Sartori il tiro e il gol! Matteo! Sartori! Non deve raccogliere le provocazioni, poi arriva anche il portiere, va giù intanto un giocatore dell'alma, Sartori, va giù Sartori, attenzione, attenzione, il direttore di gara che viene placato dal portiere, che farebbe bene a stare in porta a questo punto invece di andare a provocare. si accende una mischia, c'è un cattelino rosso intanto, vediamo, Gucci viene via, cattelino rosso al numero 10 Gizzi, Carrato al limite, la palla è buona per Carrato che prova la conclusione, c'è il corner. Buon giocatore anche questo Carrato, Zitarciuk, un'entrataccia, attenzione, brutta entrata di Zitarciuk, c'è il rosso diretto, rosso diretto giusto. Prosegue intanto in fase d'attacco, palla al limite con il tiro, bomba, attenzione, la palla resta lì e c'è Santilli che spreca il tapin verso Carsetti che prova a venire via, il tiro di Cassetti di prima intenzione, Sassaroli, 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 il tiro di Sassaroli e c'è il gol, Mattia, Sassaroli, è il 2-1, incredibile, il calcio è questo, è espulso Ginestra. Espulso anche Ginestra, espulso anche Ginestra, troppo nervosismo, troppo nervosismo. Siamo al 49esimo, il Fano in 11 contro 9, come detto, c'è il fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria dell'Alma, Alma Juventus Fano batte a Mitter Nina dopo davvero un'eternità, non fischiava più il direttore di gara.